Questa è una web app, quindi è compatibile con tutti quanti i dispositivi, non è una semplice applicazione. Questa è un sito che tramite tutti quanti linguaggi, CSS e JavaScript, diventa compatibile con ogni cello di dispositivo. Quindi si testa, tablet e smartphone. I linguaggi e le definizioni che abbiamo usato sono, oltre al classico HTML, il PHP per la gestione lato server, il database MySQL, e abbiamo usato in JavaScript, jQuery, la libreria per la gestione delle immagini avventoriali, che è snap.sg.cs, e poi abbiamo utilizzato Ashax. Sapete quello che è l'immagine avventoriale? Cosa è l'immagine avventoriale? Mentre voi, quando avete l'immagine avventoriale, la classica PM, FIOC, perché quando si immagina, cosa succede? Inserata, inserata. Un'immagine S.F.G. invece non si escherata. Perché? Perché l'immagine S.F.G. è compostata da tante formule matematiche. Quindi, come voi andate a fare l'insuma, ricalco tutte le immagini del cerchio, per esempio, quindi è una cosa perfetta. Questo formato si chiama S.F.G. Grazie. Grazie. Grazie.